È una mostra che testimonia la grande capacità, la grande creatività degli architetti mantovani e l'Ordine ha fatto bene a mettere in mostra questa capacità creativa. Il Comune dal canto suo ha dato il patrocinio, non solo ha dato il patrocinio, ma ha ospitato questa mostra in un posto così prestigioso che sono le fruttiere di Palazzo Tè e quindi è un modo per sottolineare non solo la vicinanza del Comune all'Ordine degli Architetti ma quasi per segnalare la necessità che ha il Comune e la città di Mantua di avere il contributo di quest'Ordine e dei suoi architetti. Io penso che qui celebriamo la creatività per le abitazioni unifamiliari. Nel mio intervento al convegno ho sottolineato la necessità di avere la presenza e l'intervento degli architetti per degli spazi pubblici. Da molto tempo mancano interventi significativi perché purtroppo le ristrettezze economiche hanno fatto sì che non vi fossero nel tempo possibilità di far applicare gli architetti per la realizzazione di opere pubbliche importanti. Come è nata questa idea e come sono arrivati questi 35 progetti? L'INEE è nata insieme alla Fiera Milenaria di Gonzaga per stimolare un dibattito sull'architettura civile sul territorio mantovano partendo chiaramente dalle tradizioni che ci sono attualmente fino adesso sul territorio mantovano relativamente alle case unifamiliari e quindi abbiamo chiesto ai nostri iscritti di partecipare a questa mostra con dei loro lavori e mi sembra che il risultato sia più che soddisfacente. Le fruttiere di Palazzo Tè come punto di vista di questi 35 cartelli, progetti? I lavori sono già realizzati tutti quanti nel territorio mantovano e sicuramente con questo contesto dà maggiore importanza a quelli che sono i progetti esposti. Sono tutti lavori già realizzati da tutti architetti prettamente mantovani magari in collaborazione con altri studi ma sono tutti architetti prettamente mantovani.